Musica Protesta dei lavoratori di ATP oggi disagera a pallo in tarda mattinata per il blocco del casello autostradale, domani si profila la terza giornata di sciopero degli autobus. Con il nuovo orario molti studenti perdono il treno di rientro, la problematica segnalata dal comitato pendolari del Levante Ligure già a novembre per ora è rimasta inascoltata. Depuratore di Rapallo già un anno di ritardo per l'inizio dei lavori, l'assessore Arduino Maini spiega i motivi dell'unpassere e spinge ogni responsabilità del comune. Natale aprire il cuore alla speranza, durante la catechesi in Vaticano il Papa ha ricordato che Dio vince il peccato con l'amore. Ordinazione Episcopale di Monsignor Gero Marino, sabato a Chiavari attesi 150 fedeli da Savona, la cattedrale sarà aperta dalle 15 e non saranno necessari pass diretta su Telepace. Da Genova lo Zambia in emissione da 33 anni, questa sera nella rubrica Missione Mondo il racconto dei volontari dell'Associazione Zambia 2000. Un defibrillatore a scuola lo ha donato Lions Club dell'Istituto Gianelli di Rapallo, 40 ragazzi delle scuole medie hanno imparato come usarlo. Calcio Serie B, la Virtus Entella sconfitta ad Ascoli, 2 a 1, passata in vantaggio e stata raggiunta dai padroni di casa su calcio di rigore e superata nei minuti finali della gara. Buonasera a tutti e ben arrivati a Tiguglio. Oggi in apertura ci occupiamo di trasporti, dei disagi lamentati questa mattina sia per quanti viaggiano solitamente in autobus e sia per quanti viaggiano in treno. Ma in particolare che ci interessa è la protesta dei lavoratori di ATP che questa mattina sono arrivati anche a bloccare il casello autostradare di Rapallo. Nel frattempo si profila la terza giornata di sciopero per il servizio di trasporto pubblico locale. La notizia non è confermata dalle fonti ufficiali ovvero dalle organizzazioni sindacali ma il rischio è concreto perché oggi pomeriggio nell'incontro in prefettura che è seguita l'agitazione della mattinata non si è arrivati ad alcuna conclusione concreta. I sindacati oggi hanno incontrato i dipendenti di ATP che hanno ribadito di non voler più sostenere con una quota del loro stipendio le necessità economiche dell'azienda e di non sopportare più il clima di incertezza che si respira sempre teso verso un ventilato fallimento. È seguita la riunione in prefettura la quale però non ha partecipato alcun rappresentante politico della città metropolitana ma solo tecnici. Inoltre anche la delegazione dell'azienda era composta da rappresentanti senza il potere di firma. I rappresentanti sindacali hanno comunicato quanto espresso dai lavoratori al momento però non c'è stato alcun passo in avanti nella trattativa. Non si esclude quindi la possibilità di un nuovo sciopero per la giornata di domani che potrebbe essere la terza consecutiva. E sul fronte treni non va meglio. Infatti il nuovo orario dei treni è entrato in vigore domenica ma ha già causato disagi per i pendolari. Il comitato del Levante Ligure ha infatti evidenziato l'aumento dei tempi di percorrenza, ritardi e la scarsità di carrozze su alcuni convogli. Aver anticipato gli orari in alcuni casi sta comportando problemi per diversi studenti del Tiguglio. Sentiamo. L'aspetto più negativo forse è quello che riguarda i ragazzi che escono da scuola. In questo senso qual è il problema? La problematica è nata lo scorso anno, era stata messa a una pezza e purtroppo quest'anno il problema è di nuovo tal quale. Praticamente il treno parte tre minuti dopo l'orario di fine delle elezioni. Il tempo non è necessario per poter raggiungere la stazione, quindi i ragazzi sono costretti a stare dalla mezz'ora ai 40 minuti per strada ad aspettare il treno successivo. Voi avete già fatto una segnalazione a Trenitalia? Noi abbiamo fatto una segnalazione immediata appena sono usciti i quadri orari, però purtroppo a ora non è stata fatta alcuna modifica. Noi speravamo in una modifica entro il cambio orario dell'11 dicembre, ma questo purtroppo non è avvenuto. E' previsto un tavolo tecnico entro il 15 di gennaio e noi porteremo assolutamente la problematica di nuovo in quella sede nella speranza di riuscire a porre un rimedio. L'anno scorso la situazione si era risolta intorno a febbraio, quest'anno si prevedono nuovamente tempi così lunghi e questo il rischio? Il rischio è questo se non ancora peggio che non venga posta una soluzione. Segnalazioni di famiglie che appunto hanno avuto problemi con i propri ragazzi, ne avete avute tanti qui sul nostro territorio? Diverse, ancora oggi ne abbiamo avuto ancora due o tre, spero di non parlare di quelle che abbiamo ricevuto ancora prima dell'uscita dell'orario. Qui nel Tiguglio i ragazzi più penalizzati quali sono? Di quali scuole, di quali città stiamo parlando? In particolare il liceo scientifico di Chiavari, adesso non ricordo esattamente il nome, sono i ragazzi che rientrano verso Rapallo, Camogli, Recco. Poco prima delle 14, tra Sestri Levante e Moneglia, l'imbocco della Galleria della Secca, un motociclista è andato a sbattere contro il muro di sostegno dell'arco d'ingresso, senza coinvolgere altri veicoli nello scontro. Si tratta di un uomo di una sessantina di anni di Sestri Levante, che ha riportato alcune ferite, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Lavagna per il traffico, non ci sono state conseguenze. Rapallo, senza depuratore, rischia di subire le sanzioni europee. I lavori di costruzione dell'impianto devono ancora cominciare. Il punto con l'assessore Arduino Maini. L'impasse per la realizzazione del depuratore di Rapallo in località Ronco dura ormai da un anno. Siamo in attesa che IREN, che ha la gestione di questo intervento, ci comunichi la data di inizio dei lavori, che era prevista in un primo tempo nel gennaio del 2016 e adesso è slittata ai primi mesi del 2017. La situazione di inerzia è dovuta a ragioni giudiziarie. La gara di appalto, che aveva fatto registrare un buon ribasso del prezzo, è stata impugnata dinnanzi al TAR dalla ditta seconda arrivata. Il TAR comunque ha respinto la richiesta del secondo arrivato, ma l'interessato ha fatto questo punto di corso al Consiglio di Stato. IREN sta aspettando l'esito del ricorso al Consiglio di Stato per partire con questi lavori. Ha presentato nel frattempo il progetto del cemento armato, per cui ritengo che una volta sbloccata la situazione, i lavori possono finalmente iniziare. Il prezzo del depuratore per IREN sarà di 25 milioni di euro. Non sono ancora definiti però i costi per il rifacimento della rete fognaria da Viabetti a nuovo impianto in località Ronco. Le tubazioni avranno un percorso che è ancora da definire nel dettaglio, comunque sicuramente passeranno sul lungomare di Rapallo, nella parte asfaltata in rosso, ed è per quello che non possiamo intervenire con l'intervento di manutenzione come meriterebbe la zona, perché non vogliamo fare un intervento che poi verrebbe interessato dal lavoro di demolizione da parte di IREN. Resta all'orizzonte il problema delle sanzioni per il ritardo paventate dalla Commissione europea. Il Comune di Rapallo ritiene di non essere responsabile di questa sanzione, in quanto noi abbiamo fatto tutto quello che era di nostra competenza già da tempo, già da anni, e di conseguenza cercheremo chiaramente di manlevarci da ogni responsabilità a riguardo. È un incendio divampato in un albergo ad Aiva Marina. Troviamo la notizia pubblicata sul sito dell'Ansa della Liguria. Un incendio scoppiato nella tarda mattinata in un hotel nello spezzino. Le fiamme avrebbero interessato una parte dell'edificio e a causa del fumo denso sprigionato dal rogo, i vigili del fuoco e i carabinieri hanno provveduto allo sgombero degli ospiti, della struttura ricettiva e dei residenti e degli abitanti vicini. Sul posto tre squadre dei pompieri impegnate nello spegnimento del rogo, che per ora ha cause ancora ignote. Apriamo la pagina ecclesiale. Il Papa ha tenuto l'udienza generale nell'aula Paolo VI in Vaticano, continuando la catechesi iniziata mercoledì scorso sulla speranza cristiana. Al centro della riflessione, il pontefice ha posto il capitolo 52 del libro di Isaia, che contiene il versetto Il canto di gioia di Gerusalemme per la fine dell'esilio in Babilonia, riportato dal profeta Isaia, è stato il tema della catechesi del Papa in Vaticano. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, sono queste le parole iniziali del canto. Il motivo dell'esultanza di Israele è che Dio non ha abbandonato il suo popolo e non si è lasciato sconfiggere dal male. Ma io farò la domanda, chi è più grande? Dio o il peccato? Chi? Ah, non siete convinti, eh? Non sento bene. Dio? E chi vince alla fine? Dio o il peccato? E questa domanda non è facile. Vediamo se tra voi c'è una teologa o un teologo per risponderla. Con che arma vince Dio il peccato? Dio o il peccato! Oh, bravi! Tanti teologi, eh? Bravi! È questo il motivo della speranza cristiana e anche della gioia del Natale. Il Signore cancella i peccati e perdona. Di fronte alle situazioni negative che scoraggiano l'uomo, risuona la bella notizia. Dio viene a instaurare un regno di pace. I cristiani a loro volta sono chiamati a diventare uomini e donne di speranza. Dobbiamo anche noi correre come il messaggero sui monti, perché il mondo non può aspettare l'umanità a fame e sette di giustizia, di verità e di pace. Durante l'udienza generale sono arrivati i primi auguri al Papa, che sabato prossimo, 17 dicembre, compirà 80 anni. Trèsin Père, le pèlerin de langue française present a cette audience, vous presentent leurs meilleurs voeux pour votre anniversaire samedi prochain. Dopo la gioia di due nuovi diaconi ordinati nel giorno dell'Immacolata, la Chiesa di Chiavari si riunirà nuovamente per rendere grazie a Dio del dono di un nuovo Vescovo eletto tra i sacerdoti diocesani. Sabato alle 15.30 nella Cattedrale di N.S.S. dell'Orto a Chiavari sarà ordinato Vescovo Monsignor Gero Marino. Nato a Brescia il 26 marzo del 1955, ordinato sacerdote il 30 maggio del 1982, Monsignor Marino è attualmente Vicario Generale Parroco di Maria Madre della Chiesa Lavagna, la comunità che lascerà dopo le festività natalizie. Ascoltiamo alcuni dettagli organizzativi dell'evento. L'ordinazione episcopale di Monsignor Gero Marino sarà presieduta dal Vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini e dai Vescovi conconsacranti, Monsignor Giulio Sanguinetti, Vescovo emerito di Brescia e Monsignor Paolo Rabitti, Arcivescovo emerito di Ferrara. Parteciperanno alla celebrazione circa 10 Vescovi, tra questi tutti quelli della Regione Ecclesiastica Ligure, fatta eccezione per l'Arcivescovo Metropolita, il Cardinale Angelo Bagnasco, che accompagnerà Monsignor Gero Marino all'ingresso nella Diocesi di Savona a Noli, domenica 15 gennaio 2017 alle 15.30. Tutta la comunità diocesana è chiamata a far festa per il dono di un nuovo pastore. Sabato dalle 15 sarà possibile accedere alla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto senza alcun pass. I fedeli, che non troveranno posto in chiesa, potranno seguire la celebrazione attraverso due televisori, collocati uno all'esterno della Cattedrale, nell'area del Prono, l'altro nell'aulamagna del Seminario Vescovile. Durante la cerimonia un posto speciale sarà riservato agli ammalati, accompagnati dai volontari unitarsi che potranno disporsi nel transetto al lato destro della chiesa. Sarà presente anche una delegazione ecumenica con i rappresentanti delle confessioni cristiane presenti in diocesi. Il servizio stampa sarà invece collocato dall'altare laterale a destra lato mare. Un posto privilegiato sarà riservato ai fedeli savonesi. Sono attesi tre pulmani in arrivo da Savona che potranno posteggiare sul lato monte di Via Larata, leso libero dalle auto. Piazza Nostra Signora dell'Orto sarà chiusa al traffico. Per i sacerdoti, coristi, unitarsi, il Comune rende disponibile gratuitamente il parcheggio a Sarotti, al lato della stazione ferroviaria di Chiavari. Al termine della cerimonia il neovescovo Monsignor Marino sarà lieto di salutare i presenti nel cortile del seminario dove si svolgerà un breve momento conviviale al quale hanno contribuito il villaggio del ragazzo e gli studenti della scuola alberghiera di Lavagna. Si sta inoltre organizzando un pullman che parta da Chiavari per tutti i fedeli che desiderino accompagnare Monsignor Marino al suo ingresso nella diocesi di Savona Noli, domenica 15 gennaio 2017. Chi desiderasse avere informazioni può rivolgersi alla segreteria della parrocchia di Maria Madre della Chiesa Lavagna entro il 30 dicembre 2016. Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo di La Spezia, ha fatto visita alla caserma Santini, sede del comando della Guardia di Finanza, per lo scambio degli auguri natalizi. Il preso l'ha incontrato una nutrita rappresentanza di militari e ha insistito sull'impegno della Guardia di Finanza per affermare i principi di legalità e di giustizia. Vediamo la foto, vediamo ora sul nostro sito internet invece un convegno che apre di fatto una serie di iniziative volte a ricordare Don Nando Negri a dieci anni dalla sua partenza per il Paradiso e nel settantesimo anniversario di fondazione del Villaggio del Ragazzo. Domani alle 17 all'auditorio San Francesco avrà inizio il convegno che sarà incentrato proprio su Don Nando Negri. Interverranno il professore merito dell'Università di Genova Lorenzo Caselli, lo storico Giorgio Getto Viarengo e prete Rinaldo Rocca, presidente del Villaggio del Ragazzo. L'incontro sarà introdotto da un video commemorativo, dai saluti del Vescovo di Chiavari e del sindaco Roberto Levaggi. Sarà trasmesso in diretta TV su Telepace. Tra le iniziative natalizie di solidarietà che contraddistinguono questo tempo di avvento ne segnaliamo una a sostegna di Teleradiopace. Venerdì prossimo, 16 dicembre, quello successivo, 23 dicembre, in piazza Matteotti a Chiavari, a partire dalle 10 troverete un banchetto contraddistinto appunto dall'insegna Telepace e dalle caratteristiche piramidi salvadanaio, oltre ad alcuni elementi riconducibili all'emittente, una telecamera ed un televisore. Accanto a questi, una sorta di mercatino natalizio realizzato con oggetti donati da diverse associazioni di volontariato del territorio. Le offerte raccolte serviranno a sostenere l'emittente di Ocesana, che vive di provvidenza, e della benevolenza dei suoi amici sostenitori. Vi invitiamo a venirci a trovare per conoscere meglio la nostra emittente e dare anche i vostri suggerimenti e le segnalazioni. Questa sera nella rubrica Missione Mondo andremo a conoscere i volontari dell'associazione Zambia 2000 di Genova. Siamo stati nella loro sede per conoscere la storia del gruppo e i loro progetti. L'appuntamento è alle 21.10, ora una breve anticipazione. Nel 1984, quando i primi volontari di Genova raggiunsero lo Zambia, quella fetta d'Africa appesa al lago Tanganyika, nacque un piccolo gruppo che mai avrebbe pensato di sopravvivere per lungo tempo, di cui il nome è più che altro un traguardo, Zambia 2000. Invece il 2000 è stato di gran lunga superato e oggi gli anni di attività sono quasi 33. Questa sera, nella rubrica Missione Mondo, parleremo con loro dei progetti sostenuti in aiuto alle suore francescane missionarie di Assisi. Si inizia appunto con la missione, poi viene l'esigenza di dare un'istruzione principalmente ai bambini, anzi prima ancora le cure. Quindi spesso accanto alla missione nasce poi un ospedale con un reparto di ostetricia eccetera. Per esempio San Calemba in questi anni sta costruendo una scuola, anche con i nostri contributi, e la scuola più vicina finora era a una sessantina di chilometri. Inizialmente Zambia 2000 ha operato nell'area del Copperbelt, la cosiddetta cintura del rame, dove sono presenti miniere molto preziose. Poi il gruppo si è spostato più a nord. Nell'84 non avevamo raggiunto San Calemba, lo raggiunsero nell'86 con padre Tarcisio e in quel momento quando tornò appunto da questa esperienza mia figlia disse sapevo che non c'era nulla, ma un nulla così non pensavo di trovarlo. E allora da quel momento, nell'89 torniamo giù e cominciamo con i centri nutrizionali, con un piccolo ospedale come ha detto Roberta, in memoria del suo bambino. e poi a portare avanti tutte quelle nostre iniziative che abbiamo ritenuto più importanti proprio per dare il massimo e che comunque, soprattutto quello che è importante dire, è un cammino che facciamo al fianco delle missioni. Continuiamo a parlare di esteri, andiamo in Siria, ad Aleppo, dove salta la tregua, nuovi bombardamenti avvengono in città. Questo è quanto troviamo sul sito online della stampa, slitta l'evacuazione di civili e di ribelli, una situazione di estrema difficoltà. Il giorno dopo l'annuncio di Mosca, secondo cui Aleppo sarebbe riconquistata dalle truppe realiste, la tregua sarebbe già stata violata. A denunciare la ripresa dei bombardimenti e l'osservatorio siriano per i diritti umani, che poco fa ha già parlato della ripresa dei combattimenti con scontri a fuoco, nonostante l'annuncio del cessate il fuoco. Ed un'immagine simbolo della situazione drammatica che si sta vivendo ad Aleppo, arriva dalla comunità dei padri gesuiti di San Bartan ad Aleppo. Stiamo vedendo proprio questa fotografia, l'immagine del crocifisso crivellato dai colpi e mutilato. Nella messa quotidiana prevista per l'ora in cui è avvenuto questo bombardamento, era stata provvidenzialmente celebrata in un altro luogo di culto e solo per questo è stata evitata la strage. I danni all'edificio sono stati tuttavia consistenti, i gesuiti non perdono in ogni modo la speranza. A due ore di auto da Aleppo ci sono i villaggi della diocesi di Laicocea. Ad un'altitudine di 700 metri vivono alcune migliaia di famiglie e per assicurare a 600 di esse il riscaldamento, aiuto alla chiesa che soffre Italia sta raccogliendo fondi con un'apposita campagna natalizia. E sempre all'Aicocea la fondazione sta finanziando un altro progetto per garantire latte e panollini a 650 bambini. L'Istituto Gianelli di Rapallo da qualche giorno possiede un defibrillatore indispensabile strumento salvavita. 40 ragazzi della scuola media hanno partecipato ad un corso per imparare ad usarlo. Il Lions Club di Rapallo ha donato un defibrillatore all'Istituto Gianelli. La cerimonia di consegna si è svolta nel cortile della scuola ed è stata preceduta, nella palestra dell'Istituto, da un corso dedicato alle manovre salvavita tenuto da Emanuele Sartori e Barbara Raviolo dell'associazione New Life Resuscitation, destinato a 40 ragazzi della scuola media. I ragazzi si sono dimostrati attenti e partecipi e soprattutto curiosi per le spiegazioni fornite dagli esperti. L'inaugurazione del defibrillatore, infatti, al di là dell'importanza nelle emergenze, ha anche un valore educativo. Abbiamo dato altri defibrillatori nel corso degli ultimi anni ad altri plessi scolastici. Riteniamo importante questo strumento che può veramente salvare la vita in casi di emergenze. Pertanto siamo molto soddisfatti e siamo certi che sia una cosa utile, sperando che rimanga lì senza che nessuno mai lo usi. Credo sia estremamente importante, anche sotto il profilo educativo. Questa consegna ufficiale è stata preceduta da un'esercitazione e un corso di istruzione. E ancora quindi un grazie al Lions Club di Rapallo, che ancora una volta si segnala per iniziative particolarmente importanti di livello e di qualità, e l'associazione genitori dell'Istituto Gianelli, con la quale abbiamo avviato una stretta collaborazione finalizzata alla salvaguardia di questo importante istituto, che costituisce un'eccellenza nell'offerta formativa non solo di Rapallo, ma dell'intero Tiguglio. La morte improvvisa, cioè la patologia per cui il defibrillatore automatico oggi viene utilizzata, nei bambini sotto gli otto anni, per quanto non sia frequente, però colpisce circa il 3,5%, quindi non un numero irrisorio. Noi oggi come genitori ci sentiamo ancora più protetti, considerato che abbiamo affidato i nostri figli a questa scuola, a cui abbiamo affidato il loro cervello, la crescita del loro cervello, e oggi siamo anche tranquilli di poter affidare con sicurezza il loro cuore. Il Tiguglio si fa sempre più vicino ad Arquatta del Tronto, uno dei paesi maggiormente devastati dal terremoto in centro Italia. Una delegazione appena rientrata dalla prima visita nella località marchigiana. Tra gli altri hanno partecipato alla spedizione i sindaci di Chiavari, Roberto Levaggi, il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, con l'assessore ai servizi sociali, Lucia Pinasco, e di Camogli, Francesco Olivari, consigliere delegato della protezione civile di Rapallo, Varter Cadinari, il presidente dell'associazione Verità per Giulio Reggeni, Andrea Lavarello. Ad Arquatta la delegazione del Levante ha incontrato il sindaco Petrucci ed il vice sindaco Michele Franchi. Tutto il territorio comunale è stato dichiarato zona rossa e pertanto inagibile, e le 13 frazioni sono disabitate, presidate da esercito, protezione civile e vigili del fuoco. La popolazione di 1200 abitanti è completamente sfollata in Ascoli Piceno e a San Bedenetto del Tronto. La delegazione del Levante ha posto le prime basi per la realizzazione del centro civico di aggregazione sociale per giovani, adulti ed anziani, per il quale sono state raccolte le risorse a partire dal concerto al Teatro Cantero del 22 ottobre. Attualmente si è arrivati alla somma di 100.000 euro. I rappresentanti del Tigula hanno partecipato anche ad una riunione al municipio di Ascoli Piceno, durante la quale sono stati valutati gli aspetti tecnici del progetto del centro civico, che sarà costruito con criteri antisismici. Due giorni alla scoperta delle bellezze del Parco di Portofino, per conoscere più a fondo questa risorsa del territorio e poterla trasmettere ai visitatori. È il contenuto del percorso formativo organizzato da Portofino Costa e da Lente Parco per gli alberghiatori del Levante, che si sta svolgendo nella sede del Parco a Santa Margherita Ligure. Vengono illustrate le escursioni, le specificità culturali, i materiali informativi che il Parco produce, le vie d'accesso, i punti ristoro e i musei. Il corso prevede anche una parte pratica con escursioni guidate alla scoperta del territorio. Ora andiamo a scoprire invece tutti gli altri appuntamenti che sono in agenda nel nostro Consetto Spazio. Appuntamenti in programma per giovedì 15 dicembre. In occasione del primo decennale della sua attività, Open Day è la residenza protetta alle Due Palme di Sestri Levanti, via Val di Canepa. Appuntamento dalle 9 alle 19. Sarà possibile visitare i nuovi locali per attività polifunzionali al piano terra della struttura, alle 16 concerto del coro Incantarte Tiguglio, alle 17 presentazione del bilancio sociale. A Santa Margherita Ligure è la casetta degli Elfi sul lungomare, il laboratorio di cucina per adulti a cura di Paola Zattera, che insegnerà a preparare pere speziate con frutta secca a partire dalle 11. All'Istituto Comprensivo Statale di Cicagna, Open Day per conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di primo grado di Cicagna e Gattorna, dalle 15 alle 17. Sono previsti i laboratori. Per la Scuola Media di Cicagna la presentazione si svolgerà al Palazzetto Poliuso. Christmas Tea with Carols and Mead Spice, appuntamento con le conversazioni in lingua inglese per l'Associazione Italo-Britannica di Chiavari. L'incontro pre-natalizio, ormai tradizionale, avrà inizio alle 16 all'hotel Monterosa. Laboratorio per bambini e la casetta degli elfi sul lungomare di Santa Margherita Ligure, con Maria Paola e Patrizia di Formica Rossa, che insegneranno a preparare un babbo natale a partire dalle 16. La profezia delusa Sergio Quinzio è il titolo della conferenza che si terrà alle 16 a Villa Queirollo, Rapallo. È uno degli incontri inseriti nel calendario dell'Accademia Culturale. Relatore Paolo De Lucia. Letture sotto l'albero, dalle 16.30 nella Biblioteca Civica di Riva Trigoso, in via Caboto, gli studenti del liceo Marconi del Pino di Chiavari proporranno ai bambini una carrellata di letture natalizie. Il Milan Club di Guglio Mattia Verrone organizza un brindisi natalizio per i tifosi rossoneri che si terrà alle 20.30 a Hotel Rosa Bianca di Rapallo. Alle 21 a Rapallo all'auditorium delle Clarisse incontra con l'alpinista scrittrice Silvia Petroni. Si tratta di un evento organizzato dal Club Alpino Italiano. Parliamo ora di sport, calcio serie B, una trasferta che lascia la mano in bocca per la Virtus Entella impegnata ieri sera ad Ascoli per il recupero della tredicesima giornata di campionato. I chiavaresi passati in vantaggio sono stati riagguantati dai padroni di casa su calcio di rigore e superati nei minuti finali. Lo sguardo dei biancocenesti è ora rivolto a Verona dove si disputerà la prossima gara lunedì alle 20.30. Ma nel servizio vi riproponiamo la cronaca della partita. Allo stadio del Duca di Ascoli, Ascoli batte Virtus Entella 2 a 1, un risultato maturato negli ultimi minuti di gioco. La partita infrasettimanale è stata il recupero della tredicesima giornata del campionato di serie B, non disputata a causa del terremoto che ha colpito il centro Italia. Al quattordicesimo sono i chiavaresi a passare in vantaggio con Troiano. Calcio d'angolo battuto da Moscati, tocco di Jacoponi e Troiano controlla la palla e mette in rete con un rasoterra ravvicinato. La squadra di Breda continua ad attaccare. Al ventiseiesimo punizione di Cutolo, respinge con i pugni il portiere dell'Ascoli. Colpo di testa ravvicinato di Diao, ma il portiere bianconero si salva. Al quarantesimo l'Ascoli riesce a penetrare in area con Giorgi che viene bloccato fallosamente da Ceccarelli. L'arbitro indica il dischetto e caccia dagli 11 metri, non sbaglia. All'ottantacinquesimo la Virtus Entella resta in dieci dopo il doppio cartellino giallo per Troiano. Al minuto 89 esplode il Del Duca. Cross di Feliccioli dal fondo, sponda perfetta sul secondo palo di Orsolini per Favilli che da pochi passi spedisce in rete di testa. Abbiamo fatto delle buone cose, una buona prestazione. Se abbiamo perso qualcosa in più dobbiamo fare, soprattutto nella lettura dei momenti successivi all'espulsione, perché ci si può anche stare, mancava poco. Proprio la prima opportunità dopo l'espulsione siamo andati subito a creare questa occasione. Spiace, perché per il resto abbiamo fatto una buona partita con intensità, con personalità, concedendo molto poco all'Ascoli, però purtroppo raccogliamo niente. L'Ascoli conquista i tre punti che lo portano a 22 in classifica. 26 punti per la Virtus Entella, che ora volge lo sguardo a Verona, dove disputerà la prossima trasferta sabato 17 dicembre. La classifica è buona, la gioco che fare punti oggi vuole dire fare ancora più un passo in avanti, però rimaniamo coerenti con quello che vediamo e che facciamo. C'è da tanto da lavorare, da migliorare, prendere anche le cose positive, però vediamo che in questo momento non bastano, quindi bisogna fare qualcosa in più. La trasferta a Verona sarà lunedì e non sabato, come annunciato nel servizio. Vediamo ancora una notizia giunta da poco in redazione che fa riferimento ad un'opera importante d'attesa. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera al ribaltamento a mare di Fincantieri, un passo importante verso l'approvazione definitiva del progetto. Lo annuncia con entusiasmo l'assessore Giacomo Giampedrone, assessore regionale alle infrastrutture. L'approvazione di oggi, spiega Giampedrone, riguarda la conformità urbanistica del progetto di una nuova calata d'uso cantieristica navale e la sistemazione idraulica di Rio Molinassi. Questo significa che a livello di piano portuale il progetto è approvato. A questo punto seguirà l'approvazione del progetto definitivo già presentato dall'autorità portuale di Genova da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si conclude così questa edizione del nostro notiziario. L'informazione di Telepace ritorna domani mattina alle 7.30 con il Buongiorno di Tele Radio Pace condotto in diretta da Marco Revello e alle 12.45 con il TG13. Grazie a tutti dell'attenzione e buona serata.